ciao buonasera a tutti vediamo oggi il grafico daily con candelli giapponesi sulla coppia dollaro usa contro yen giapponese prima vi segnalo la nostra solita mail scattelmeeting.gmail.com per chi vuole cominciare a avere le prime info in merito al meeting che si terrà insieme al dottor massimo moschella e altri due relatori in data sabato 7 aprile a milano per cui a queste mail attendo le richieste di info il grafico usd contro yen giapponese è a un livello dopo la candela che si sta formando oggi sono le 20 17 candela in 107 70 un livello che può iniziare a palesare una ipotesi di entrata rialzista entrata rialzista per due motivi possiamo andare a tracciare queste due trend line che ci segnalano che ci troviamo in un canale con inclinazione leggermente ribassista la candela di oggi non è ancora una candela di stampo rialzista ma in area 106 e 50 o anche 107 con una candela di stampo rialzista sarà possibile andare a aprire posizioni rialzista andando poi almeno personalmente a posizionare lo stop proprio al di sotto del canale che si è formato anche a livello ciclico secondo me è possibile ravvisare il fatto che si sia in una zona di tempo che preannunci la fine di un ciclo ossia vediamo che c'è proprio temporalmente delle cadenze di minimi importanti e come tempi sembra possibile che le sessioni attuali siano le ultime di questo ciclo va da sé che quindi come analisi ciclica vuole vi possa essere poi una ripartenza con un ciclo di rialzista e guarda caso in corrispondenza di quello che è un supporto di medio periodo per cui personalmente vado ad attendere già da domani la prima candela di stampo rialzista per ipotesi long con il primo target da andare a prendere su questa resistenza in area 110 e 30 su questa resistenza di medio periodo entrare a questo livello quindi in area 107 ci offre sicuramente un risk reward ottimale perché vediamo quanto è più stretta l'area del possibile loss rispetto all'area del possibile gain un saluto a tutti grazie buona serata